Il momento è finalmente giunto Xenoblade Chronicles 3 La grande domanda che tanti si pongono in questi giorni è Ma se io non ho giocato ai primi due, ci posso giocare lo stesso? La risposta è sì Il titolo, come capirete, andando avanti o giocando ai precedenti Vive di storie indipendenti Inserite però in un contesto, diciamo, sinergico Vogliamo definirlo così Quindi, se l'avete giocato ai precedenti, meglio Coglierete delle cose, se non l'avete giocati non è un problema Perché comunque apprezzerete quello che andremo a vedere adesso Curiosissimo, grazie a Letendo per la copia E partiamo Come on, hurry up The Queen's Anniversary's gonna start without us, guys Yeah, move your feet Up, up, run like you mean it Slow down, guys Is... Is it true, though? There's gonna be fireworks? Yeah Saw them setting up yesterday There were loads of them It'll be worth it, promise Gotcha! Yeah Grazie a tutti. 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 Oh, a Luna. Grazie a tutti. No. 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 It's not enough. No. 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 Let's go, if the front line breaks we're all dead But the position We can handle this ourselves Go on, move it A levelist That's what's hitting us Well, now we know It's do or die, Noah Got it Here we go, a levelist A little bit The level of the person Are more popular than the technical normals So the technical person can be activated Prevendo A When the indicator circolare is full Vabbè Eeeh If you have an attack in an instant With the precedence It allows you to connect Two attacks Attacchi Puoi collegare anche attacchi automatici Con tecniche e tecniche normali Con tecniche personali Eventuali con la procedura A più leggera E vedete più danni Dai, dai Se mi fate fare St'attacco speciale Magari Stiamo tenendo? Ok Non è che gli abbia fatto Chissà quanti danni Comunque Tutto il bene Ma Ok Sì ... ... Dai che ce la facciamo Su Giuse a così Ok Grazie 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 Alla prossima VICTORY! VICTORY IS OUR! WE WON! WE WON! WE WON! YOUR LIVES ARE OURS! YOUR LIVES ARE OURS! MY LIVES ARE OURS! Non lo vedo convinto! CAN'T WAIT DO ORdayse! WE WON! YEEE ASäänH& Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Just take out their attackers and we're golden! They're gonna get it handed to em! Bah! Blickering hoop! You're as slippery as Noah sometimes! Uni! Chick never shuts up! Kai! Range darts! Easy! Uni! Didn't account for kite! I snubbed this up! You okay? Uni! Cheers for that! You're a lifesaver, Yoren! Sparking dead weight! Hey! Change of plan! Kai! You keep firing and don't stop! Oh what? Whatever you want! Huh? Go ballistic! Just draw their attention! Cause what we're after here Is that lame duck! Yoren? But he's bottom of the class! Why bother? Thing is The brat's still a decent healer! Get it? Ah right! So we're playing by the book here! Pisses me off! But the fight will be good as one! Yeah! Juni! Take out Kat! Kat! They've got the advantage! And they're behind cover! Noah! Noah! Can we flank them? Noah! They're not in their usual formation! Wait what? We're snuffed! Kai's just a decoy! So they're really after... Quick thinking, Lanz! Lanz? Top guy? But you can't hold out forever! Spark! They want to take you out of the running! Yeah, but... Don't you leave that snuffing spot! Why... Why would you... Why would you... Why would you... All the... I am... is God! Ora, puoi continuare! Tu dovresti fare così più veloce! Ora, puoi continuare! Sì, ma ancora... Non ho bisogno di farlo per farlo. Come on! C'è stato cercato di proteggere! L'arrivo in Garvel's gang! Gave us la possibilità di rinforzare! Sì... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... No più riguardo! È la mia scuola! Sì, ma... 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 Ma chi è l'infiltrato? Chi ha mai visto quell'altro? Il piccoletto Ma un attimo spiazzato Anche perché tutti fanno finta di niente Ma chi è l'infiltrato? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.